Quello dell'UNESCO è un risultato straordinario, qui abbiamo lavorato molto. Ora il piano di gestione del sito considera il Tevere da Ponte Cavura a Ponte Subliccio come un suo attributo, cioè uno degli elementi e dei caratteri che fanno del sito UNESCO di Roma uno dei più importanti del mondo. Ha detto così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri intervenendo al convegno Tevere Patrimonio del Mondo. Nell'ambito del Tevere Day, il Tevere, ha detto il sindaco, è parte integrante di questo sito traducendo sul piano simbolico amministrativo e giuridico ciò che per noi è stato dal primo giorno un obiettivo politico, riportare il Tevere a una centralità culturale ed economica che fa parte della sua storia perché Roma nasce attorno al Tevere. Oggi arriviamo dopo anni in cui è stato persino occultato soprattutto per governare i flussi a differenza della Senna che è regolare ma i muraglioni non impediscono di riportare il Tevere dentro la città. È stato finora la periferia più centrale di Roma, anche l'organizzazione della governance non aiuta, serve un dottorato per capirla. Per il Tevere sono stati trovati complessivamente 50 milioni, i lavori sono partiti avviando la rimozione di tonnellate di rifiuti sulle sue sponde, ora si stanno realizzando 5 nuovi parchi d'affaccio con 7 milioni di euro portando il totale dei parchi a 9. I cantieri stanno procedendo come da crono programma, il primo ad aprire sarà il parco d'affaccio di Ostia Antica alla fine di dicembre, a fine gennaio apriranno quelli sul lungo Tevere delle Navi e Ponte Milvio, a febbraio quello dell'acqua cetosa e a marzo quello del Foro Italico. A marzo partiranno poi i lavori per i tre parchi d'affaccio nell'ambito del programma sulla Niene.